La rassegna stampa è offerta da Venerdì 6 settembre, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. In apertura una notizia che riguarda la politica, alto là del colle sulla crisi di governo. Il presidente napolitano avverte che in questo periodo sarebbe rischiosa. Il PDL però accelera meglio le elezioni che stare con chi vota contro. Tutte le altre notizie le leggiamo all'interno della nostra rassegna stampa. Iniziamo la nostra rassegna stampa con il quotidiano nazionale romano Il Messaggero. Politica in apertura, alto là del colle, no alla crisi. Sottotitolo napolitano sarebbe rischiosa e ricorda il sostegno al governo dichiarato da Berlusconi. Il PDL è meglio elezioni che stare con chi vota contro. Esecutivo battuto sul gioco d'azzardo. Taglio centrale, internazionale, politica, Siria, lettera del Papa, no al massacro, Obama-Putin, alta tensione, l'ONU, ostaggio di Mosca. Torniamo in Italia, sempre taglio centrale a destra. Più investimenti esteri in Italia, il piano punta su fisco e giustizia. Sottotitolo, il rapporto sul tavolo diletta, certezza per le multinazionali. Uno sguardo al quotidiano economico il sole 24 ore, Draghi rassicura i mercati, tassi BCE bassi a lungo, il G20, misure concrete per crescita e lavoro. Chiello, il governatore, ripresa debole, pronti a intervenire se necessario. Borse in recupero. Ed ora passiamo alla pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno. Sventata evasione a Lecce, finisce sotto inchiesta l'ergastolano Totò Rizzo, indagati in tre per il clamoroso progetto di fuga da Borgo San Nicola. La battaglia, treni veloci al sud, riparte l'offensiva della Gazzetta. Dal giornale e dalle istituzioni appello al governo per l'ammodernamento della linea adriatica. La Gazzetta di Lecce si libera agli usurai, arrivano le condanne, ma lo Stato si defila, abbandonato al mio destino. Chiello, la vicenda esemplare di un imprenditore che ha trovato il coraggio di reagire. Sulla destra, Casarano, Tribunale, il Tar blocca il taglio. Il Tar concede la sospensiva alla chiusura del Tribunale di Casarano. Taglio centrale, evasione sventata, indagato Totò Rizzo. Lecce ad una svolta l'inchiesta sul clamoroso progetto di fuga da Borgo San Nicola. Sulla sinistra, indagine da costa a costa, amaro floppo del turismo settembrino. Galatina, ritardi dopo il parto, chiesti 3 milioni per il neonato malato, copertino, assalto armato in tabaccheria, in fuga con la cassa. Lecce, colpi di fucile contro l'auto di una donna. Ed infine il nuovo quotidiano di Puglia. Tribunali, rompe il Tar, Casarano sospesa la chiusura della sede, ma Buffa avverte, non cambia nulla. Accolto dai giudici amministrativi il primo dei ricorsi, in attesa, Tricase e Galatina. La storia, Papa Francesco telefona una ragazza salentina, battezzerò tuo figlio. Sulla sinistra, il testimone cambia versione sulla Scarlino Nuovo Giallo, occhiello, pompieri trattenuti fuori dall'azienda, domanda, la procura, chiede spiegazioni. Taglio basso, il gossip, love story con arca, un nuovo amore per Kasia Smutniak, Galeotto fu il set di Lecce. Prima di addentrarci nelle pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, parliamo di attualità, in primo piano l'emergenza lavoro, c'era una volta il tessile, il settore si reinventa dopo la crisi e i fallimenti, sempre meno aziende in Puglia e tante vertenze aperte. Il caso, ieri l'intesa tra imprenditori e sindacati, Filanto tenta il salvataggio e mette sul tavolo 469 mila euro. Ed ora le pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, lavori fermi, ora risarciteci sulla regionale 8, guerra legale fra Bari e Verno e le Leadri minaccia, pagherete le penali. Il riordino della giustizia, sedi dei tribunali, il tar salva Casarano, il caos raddoppia e i giudici stoppa la chiusura fino al 18 settembre. L'intervista allo scetticismo di Mario Buffa, presidente della Corte d'Appello, questo decreto non cambierà nulla e contribuirà a creare solo confusione. Il viaggio, storia di un'udienza infinita, 150 processi per il supergiudice, lavoro extra in arrivo per i togati e resta il nodo delle aule. I nodi della città, carte false per le licenze, Giulia Saracinesca di tre pub del centro, dossier in procura, il comune annulla. Le autorizzazioni, commercio, sconti dal 5 al 25% nei negozi, arriva la card dei giovani, l'iniziativa dell'associazione Carpe Diem con il sostegno delle istituzioni. Il caso movì dal guinzaglio, dalle 21 alcol vietato, le nuove regole e proibita la vendita da sporto. La corsa all'università economia sfida quiz per poter dare i numeri, molti giocano le proprie carte puntando su più tavoli e c'è chi torna in pista anche a 12 anni dal diploma. Appalti e salute, un buon pasto, almeno 4,61 euro. L'ASIR diffonde i dati sul rapporto qualità-prezzo per i cibi serviti nelle menze. Ancora cronaca, la Croce Rossa denuncia ai vigili, discussione per un parcheggio, la Presidente va in questura. Provincia, copertino, rapina lampo in tabaccheria, fucile in faccia al titolare, malviventi in azione all'uno e mezzo, sono fuggiti su un'auto con targa finta. Ed infine concludiamo con lo sport. Lecce, una vittoria per cancellare i dubbi. Parlano tre tecnici del passato, Renna sensibile russo, esordio amaro, ma c'è il tempo per rimediare. E anche per oggi la nostra rassegna stampa termina qui. Vi ricordiamo a breve l'appuntamento con TG News 24. Buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da... La rassegna stampa è stata offerta da...